Ciao a tutti, sono Nicolò di OramWeb e sono qui a proporvi l'unboxing e la scheda tecnica di due nuovissimi prodotti che sono appena arrivati nello showroom Oram. Si tratta delle telecamere di Wasp, una ditta americana poco conosciuta in Italia ma assolutamente apprezzata all'estero, in particolare in territorio americano, una ditta appunto a provenienza dagli Stati Uniti. E vediamo i due modelli, il modello Gideon che possiamo considerare un pochino il top di gamma della gamma Wasp e il modello 9900, quindi il modello diciamo leggermente inferiore non tanto come qualità dell'immagine ma quanto dotazione. Perché appunto come potete già intravedere dalla scatola, la particolarità di queste due telecamere in particolare di questa qui è la presenza nel caso della 9900 di un braccialetto che fa da telecomando per comandare la camera, nel caso della Wasp addirittura un fantastico orologio con display a colori. Ve lo farò vedere fra un momento. Iniziamo dalla scheda tecnica, partiamo diciamo dal modello come dicevamo un pochino più alto di gamma che può vantare una registrazione a 1080p, quindi full HD, a ben 60 frame. Poi ovviamente è possibile ridurre un pochino il frame rate per avere una durata di registrazione maggiore a 30 frame. Ovviamente registra anche in 960p e pensate che in 720p quindi in HD arriva fino a 120 frame per secondo. Scatta anche foto alla bellezza di 16 megapixel. Ma la particolarità di questa telecamera è sicuramente la connettività perché oltre ad avere il suo orologio appunto in cui è possibile vedere l'inquadratura di quello che stiamo registrando grazie al piccolo display appunto a colori, ha anche il wifi per collegarsi per il live streaming con il proprio cellulare. È veramente veramente una telecamera fantastica con una qualità dell'immagine strepitosa. Passando invece al modello diciamo un pochino più semplice anche nell'utilizzo abbiamo sempre una registrazione in full HD, questa volta ha un frame rate di 30 frame al secondo. Scatta anche questa qua foto a 5 megapixel e ha comunque il wifi integrato. Entrambe sono dotate di come vedete case stagno che andremo a vedere fra un attimo e di una serie di attacchi veramente molto interessanti. Partiamo dal modello 9900 e andiamo a vedere quello che è il contenuto della confezione. Allora intanto andiamo a rimuovere la plastichina. Ecco qua, qua possiamo vedere il braccialetto. Un braccialetto veramente, potete vederlo, veramente è molto compatto, non dà assolutamente fastidio. Le dimensioni sono quelle di un qualunque orologino digitale, non è assolutamente ingombrante. E qua invece troviamo la camera, vediamo se riusciamo a sganciarla da supporto. Eccola qua, ormai la forma è quella classica anche qua di tante concorrenti perché ormai la maggior parte di videocamera viene proposta in questa modalità qua. E il case è appunto impermeabile e subacqueo. Ecco qua. Come vedete, veramente molto piccola. Ingresso microfono, ingresso per schedina microSD, uscita HDMI, ovviamente micro HDMI e dicevo da questa parte anche la USB. Una videocamera veramente, veramente interessante e veramente molto compatta. Andiamo nello specifico, andiamo a vedere il contenuto della scatola, troviamo la batteria, due basette adesive di cui una curva per le superfici curve, una per le superfici piane, un laccetto di sicurezza. Questo è un custodia per il case posteriore per poter inserire delle cinghie, il cavo USB ormai classico, la fascetta per il fissaggio, il caricabatterie, una serie di spessori adesivi e ovviamente i manuali di istruzioni. Quindi una dotazione veramente, veramente completa. Passiamo alla, appunto, alla WASP che come dicevo abbiamo già sbirciato. Il corpo camera è uguale, a parte probabilmente la forma dell'obiettivo che vedete che qua è rettangolare, nel caso della 9900 è circolare. Per il resto la camera ha un corpo, anche questo è estremamente compatto, le dimensioni sono le stesse e anche il peso è estremamente contenuto. Andiamo a liberare anche questa camera da, appunto, dalla sua confezione, vedete, è veramente piccolissima, stesse connessioni. La particolarità maggiore è, appunto, questo fantastico orologio. Abbiamo provato a caricarlo, quindi per farvi vedere anche un pochino quella che è la risoluzione del display. Funziona anche, ovviamente, da orologio comune, quindi qua vedete sta indicando l'ora che noi ovviamente non abbiamo regolato. È estremamente robusto, estremamente impermeabile e ha tutti i comandi per poter dare l'inizio della registrazione o, nel caso del bottone superiore, per scattare una fotografia. Un'altra serie di comandi ci permette di usare altre funzioni, quali, appunto, il cronometro, piuttosto che la sveglia. E, però, come dicevamo, l'utilizzo principale che si fa con questo orologio, appunto, è quello di poter visualizzare, adesso qua ovviamente non è collegato, visualizzare a tutto schermo, su questo fantastico e luminoso schermo a colori, quello che sta, in questo momento, riprendendo la nostra telecamera WASP. Cosa dire? Il contenuto della confezione è uguale, lo stesso, appunto, del modello 9900, quindi troviamo, appunto, basetta adesiva, la solita custodia posteriore e, ovviamente, anche questa videocamera, come abbiamo già detto, è impermeabile e subacquea. Io non posso fare altro che invitarvi a venirla a scoprire nel nostro showroom Oram di Via Emilia Est 935 a Modena o venire a scoprire altri dettagli e altre funzioni di questa fantastica videocamera sui nostri siti e, in particolare, su www.oramonline.it Io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo unboxing Oram Web. Ciao!